Sottoline! una cosa, io direi che sono un cielo aperto, se non per questo, vai con male, vai! ma se penso che anche tu, se tra quelli di nostro, sono cose speciali succellali se può te, può te! come un rara, subite! con una frequenza che arrivi a te! e come a te! se devi stare già mai a collegare i segnali tra noi se diretti di come noi, per poi finire che c'è il guai potrai essere grande, e tu non stai ok! ma quasi è forte via dentro, no? io senza modo che non ci sto e tu il valutino al massimo! e se penso che anche tu, se tra quelli di nostro, non è come se qualcosa di speciale e tu, ce l'hai! c'è solo te! solo te! come un rara, subite! con una frequenza che arrivi a te! e tu, a te! e te, a 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 te e sei la rara sempre più e se la rara sempre più! adesso te! e poi giù in piccata nel ruoto! C'è come te, come te, come un radar su di te, come sempre quella che arriva a te, c'è come a te. C'è come te, perché sei così speciale, perché sei anche prezioso e perché sei uno di noi, i nostri eroi.